Assolutamente sì e lo faccio convintamente a nome di tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione perché essere qui oggi e onorare uno dei grandi del teatro italiano era doveroso. Doveroso perché Glauco Mauri, lo ha definito una delle fiaccole più luminose del teatro, uno dei grandi della scena, in scena fino all'ultimo istante, perché per grandi artisti come lui il teatro è vita, è respiro e come tanti altri è riuscito nel desiderato obiettivo di arrivare fino all'ultimo giorno rimanendo un attore di teatro e andando in scena.